... Sorpresi con le mani nella marmellata e quindi a margine dell'ennesimo furto ai danni di due distributori di snack e bevande in una scuola della città degli Imperiali, i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, nella notte, hanno tratto in arresto i presunti componenti della banda di merendine, famigerati capaci negli ultimi mesi di collezionare una incredibile serie di furti tra istituti scolastici e addirittura uffici comunali. Decine ai colpi messi a segno dalla banda che negli ultimi 30 giorni aveva effettuato raid notturni persino negli uffici finanziari dell'ente di Via Castello. A finire nel mirino dei ladruncoli, non certo preziosi documenti, ma le macchinette automatiche di snack per un modus operandi ormai becollavato. Una volta penetrati all'interno delle strutture, i furfanti scassinavano i distributori, quindi una volta messe le mani sulla gettoniera ne trafugavano il contenuto, ovvero qualche decina di euro in monetine. Il colpo della scorsa notte, però, è stato l'ultimo. A finire in manette è Eligio De Felice, 19 anni, di grottaglie, già noto alle forze dell'ordine, associato presso il carcere di Brindisi, con l'accusa di furto e gravato in concorso. Ai domiciliari, invece, Rocco Chirico, 24 anni, Angelo Palma, 42 anni, e Maria Dolorata Dimitri, 27enne, tutti di Villa Castelli. I quattro sono stati sorpresi dai militari dopo aver scassinato due macchinette di snack e bevande nell'istituto tecnico commerciale Giovanni Calò, per un bottino recuperato di circa 30 euro in monetine, ritrovato nelle tasche dei giovani a margine del fermo, ad incastrare la banda la segnalazione di un residente della zona che avrebbe visto i ragazzi scendere dall'auto guidata dalla Dimitri per poi penetrare all'interno dell'istituto. Secondo gli investigatori, i quattro sarebbero gli autori degli altri colpi messi a segno nell'ultimo mese, mese in cui, oltre al denaro contenuto nelle gettoniere, sono stati trafugati anche un monitor per pc e un computer portatile da due scuole. Tanta roba, troppa, perché i militari, coordinati dal capitano Giuseppe Prudente, non entrassero in azione. Sono dei reati che, anche se a volte considerati bagatellari, rappresentano un vulnus nella sicurezza perché colpiscono un bene primario, quale la scuola. Abbiamo organizzato, con la collaborazione di tutti i reparti del capoluogo di Francavilla Fontana, a organizzare dei servizi notturni mirati esclusivamente a questo tipo di reato. C'erano militari in borghese, militari in divisa e la città operativa è informata costantemente dei movimenti. Infatti, non appena fatti i servizi, al primo episodio, siamo riusciti ad intervenire prontamente. Questa è stata la fortuna e ci ha consentito di trovare gli autori. Ma quello dei furti alle macchinette sembra essere diventato negli ultimi anni la nuova frontiera per i giovani furfanti in erba. Nell'ottobre del 2011, tra le mura del secondo circolo didattico di via Montessori a Francavilla, i dispensers di snack e bevande furono svuotati dall'incasso. In quel caso, però, i militari riuscirono subito a bloccare i quattro malandrini prontamente acciuffati e quindi arrestati in flagranza di reato dai carabinieri del NORM dopo un breve inseguimento tra le vie del centro. Si trattava di minori del posto, peraltro, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'edificio che ospita la scuola elementare. Lo scorso febbraio, a finire in manette, furono invece Lucio Siena, 23 anni già noto alle forze dell'ordine, e Gianluca Paciullo, di tre anni più piccolo, entrambi considerati gli autori dei furti invernali perpetrati tra le scuole e uffici. Giovani, giovanissimi, pronti a sporcarsi la fedina penale per pochi, pochissimi spiccioli. Anche questa, in fondo, si chiama crisi.